Tornano dalle vacanze all'estero e scoprono di essere entrambi positivi. Due giovani di Bisaccia di 18 e 19 anni sono positivi al Covid nel comune del sindaco Marcello Arminio. Torna la preoccupazione. I due giovani si erano vaccinati a giugno con il monodose Johnson & Johnson, ma ci sono anche due buone notizie. La prima è che entrambi stanno bene, non avvertono particolari sintomi se non quello di un raffreddore. La seconda è che al loro ritorno si sono immediatamente auto isolati, evitando così quarantene per parenti, amici e possibili contatti. A Bisaccia infatti, come si apprende anche dalla pagina social del sindaco, si registrano due positivi e zero persone in quarantena. Proprio nei giorni scorsi il primo cittadino aveva fatto appello alla popolazione, in particolare ai giovani, di prestare molta attenzione. Marcello Arminio si è rivolto in particolare alle famiglie, esortando i genitori a far vaccinare i propri figli, ricordando che lunedì 9 agosto a Bisaccia ci sarà il camper della salute dalle 14 alle 19. Il vaccino è fondamentale. Il vaccino, proprio come nel caso di questi due ragazzi, in caso di contagio evita il ricovero e può essere curato come un raffreddore a una normale influenza. Intanto in vari comuni dell'Irpinia si contano nuovi positivi nella maggior parte dei casi. Si tratta di giovani e i sindaci irpini lanciano nuovi appelli alla popolazione a vaccinarsi. Domani il camper della salute raggiungerà a Prato la Serra dalle 8 alle 13, Pietra De Fusi dalle 14 alle 19. Sabato nuovo appuntamento in via De Concilis ad Avellino dalle 16 alle 23. Lunedì mattina l'unità mobile stazionerà dalle 8 alle 13 a Scampitella e dalle 14 alle 19 a Bisaccia.